Salve a tutti, 20 ottobre, il dollaro nei confronti dello Yen è a 150, un livello, come possiamo vedere graficamente, che sostanzialmente non trovavamo dal 98, o anzi, dobbiamo andare un po' più indietro, per essere precisi, dal 90. Quindi siamo su un livello incredibile, dollaro Yen, 150, lo ripeto perché comunque suona molto strano, vedere questo cambio tra due valute che fino a poco tempo fa erano considerate entrambe, per motivi anche diversi, valute rifugio, invece in questo momento lo Yen non è assolutamente un rifugio, anzi è una valuta in grande difficoltà, in grande difficoltà soprattutto dopo che la banca centrale del Giappone si è ostinata, si sta ostinando, a fare quantitative easing, a lasciare i tassi molto bassi con un controllo della curva del debito, anche sulla parte lunga, allo 0,10%, quindi non soltanto manovra i tassi che impattano sulla parte breve, come tutte le banche centrali, ha fissato sostanzialmente anche un cap, 0,1% sul tasso a 10 anni, come a dire, se vendete i titoli a 10 anni io li ricompro e quindi non schieratevi contro di me, perché poi ho più quantità di denaro di voi speculatori, quindi è incredibile quello che sta accadendo nel senso analizzato nel contesto globale, un contesto appunto di lotta all'inflazione, un contesto di banche centrali più aggressive e quindi c'è la banca centrale del Giappone che ha questo atteggiamento invece molto intransigente, anche in un contesto in cui quello che appunto possiamo vedere è che l'inflazione probabilmente è un po' più bassa nel Giappone che altrove, ma il Giappone è un grande importatore di materie prime, quindi prima o poi vedremo dei dati, probabilmente con un'inflazione più elevata anche da quelle parti, comunque in ogni caso lo scopo di questo video appunto didattico di commento parte da questo cambio che a livelli record è anche un valore tondo 150, ci siamo quasi vicini, per descrivervi due cose, uno che in realtà a volte capitano nel mondo degli investimenti delle operazioni telefonate, non matematiche assolutamente, ma questa qui la definirei abbastanza telefonata, molto molto probabile potremmo anche dire, quello che è accaduto al cambero dollaro-jene era molto molto probabile analizzando il contesto e l'altro spunto è che questo cambio è molto collegato ai tassi di interessi americani non a caso e quindi sostanzialmente vedere questo cambio salire equivale anche a guardare i rendimenti dei titoli americani che continuano a salire e quindi sostanzialmente il bottom del mercato obbligazionario di cui spesso parliamo che si allontana. Ecco prima di proseguire in questo ragionamento vi invito ad iscrivervi al canale qualora non l'aveste già fatto, a cliccare sulla campanellina per avere gli aggiornamenti dei nuovi video e a leggere i miei articoli sul Sole 24 ore di cui lascio il link in descrizione che appunto approfondiscono questi e tanti altri temi, tra l'altro c'è anche il nuovo podcast sulle criptovalute, la prima puntata è di ieri il 19 ottobre, lascio il link in descrizione proprio per ascoltare questo podcast, ogni mercoledì ci saranno podcast sulle criptovalute da me curati che appunto vi aiuteranno anche a navigare in questo nuovo e controverso mondo, il podcast è disponibile su tutte le piattaforme. Torniamo al tema di giornata, c'è questo cambio che sembra, come ho scritto anche poi su Twitter, graficamente quello di una shitcoin, cioè quelle coin che hanno questi momenti di volatilità e di crescita graficamente quasi parabolica. Come mai sta accadendo questo? Perché dico che è telefonato? Perché guardiamo un po' i tassi delle banche centrali, abbiamo l'America che ha i tassi al 3,25 che arriveranno al 4 molto probabilmente, così prezza il mercato nei primi di novembre quando ci sarà la nuova riunione del FOMC e poi abbiamo invece la banca centrale del Giappone che la troviamo anche facilmente perché c'è una freccia verde, c'è l'ultima operazione che ha fatto, è stata nel 2016 ed è stata espansiva e comunque i tassi sono sostanzialmente su un livello di meno 0,1 sulla parte breve e sostanzialmente poi come vi dicevo c'è lo 0,1 sulla parte lunga perché c'è questa manutenzione della curva del debito. Quindi il Giappone sta vivendo ancora nel vecchio mondo, quello dei tassi negativi, mentre tutte le altre banche centrali, compresa la banca centrale europea che ha portato i tassi al 1,25 ma saliranno ancora, sostanzialmente stanno aggiornando i nuovi tassi anche in funzione appunto proprio di questa lotta all'inflazione. La buona notizia è che i paesi emergenti, alcuni paesi emergenti sembra che stiano riducendo la portata dei rialzi e andando nella direzione di anche dei futuri tagli di tassi e quindi probabilmente se visualizzeremo questa schermata fra qualche mese avremo qualche altra freccia verde in più, c'è qualche operazione espansiva di taglio dei tassi con date aggiornate, le ultime frecce verdi risalgono appunto a Giappone 2016, Indonesia 2016 e Cina, anche la Cina invece che non a caso anche essa rientra in questo discorso perché sta facendo una politica monetaria in controtendenza rispetto alle altre banche centrale ma parte comunque da tassi di interesse più alti e comunque anche questa decoupling cioè questa divergenza tra la politica monetaria della Cina e della Federal Reserve in particolare si sta pagando anche lì per quanto riguarda il depreciamento dello Yen nei confronti del dollaro, comunque è molto importante vedere, avere sempre la mappa di quello che stanno facendo e quello che hanno fatto l'ultima volta le banche centrali perché se una banca centrale è molto più aggressiva di un'altra a parità di altre condizioni è abbastanza probabile, ed è qui il discorso del trade tra virgolette telefonato di questi mesi tra dollaro e Yen, è abbastanza probabile che il cambio della banca centrale del paese, la cui banca centrale sta alzando i tassi e non ha trovato il pivoce, quel tasso di neutralità oltre al quale non si può salire e si reputa che la situazione poi possa cominciare a migliorare dal punto di vista appunto dell'obiettivo dell'inflazione e anche della disoccupazione per ciò che riguarda la Federal Reserve, se appunto una banca fa, va verso l'alto e un'altra non ne vuole sapere di andare verso l'alto e abbiamo la freccia verde e soprattutto prospettive che questa a breve non diventi rossa, non inverta la politica monetaria, il cambio non può far altro che riflettere questa divergenza di politica monetaria e quindi sostanzialmente questo movimento dello Yen che è bruscamente partito da marzo del 2022 quando si è capito che la Fed non considerava più transitoria, ha abbandonato la narrativa dell'inflazione transitoria e quindi ha cominciato a dare il messaggio agli investitori che avrebbe alzato in modo aggressivo i tassi. A fronte di questo messaggio una banca centrale del Giappone che invece non ha dato alcun messaggio opposto a quello che stava facendo e cioè appunto tassi negativi sulla parte breve e sostanzialmente controllati ma praticamente azzerati 0,1 sulla parte lunga, è chiaro che il cambio a questo giro della storia non ha retto e ha sfogato questo decoupling telefonato a mio avviso tra le due banche centrali. Se andiamo a vedere poi quello che è successo dal punto di vista della percentuale possiamo vedere che sostanzialmente c'è stato questo 30% da marzo ad oggi di rivalutazione del dollaro nei confronti dello yen, 30,8%. Chiaramente il cambio poi risente anche, continua a salire anche da prima però era 100% nel 2021 e quindi in questo caso sarebbe stato un 50% ma è l'ultima parte quella più telefonata, quella in cui la Fed ha cambiato passo e la Bosch non vuole saperne di averlo fatto e questo si è visto anche nelle dichiarazioni oltre che poi mese dopo mese incontro dopo incontro nelle riunioni ufficiali delle banche centrali in cui poi aggiornano la politica monetaria e dicono anche quello che poi intendono fare in futuro. In questo senso può valere l'esercizio dal punto di vista di un investitore che operi nel mercato dei cambi o che comunque voglia valutare anche questo tipo di strumento nel proprio portafoglio di essere sempre attenti a momenti in cui le banche centrali, soprattutto nella parte iniziale, chiaramente a questi livelli la partita è molto complessa, potrebbe essere molto pericoloso, non sono consigli di investimento, in ogni caso questo è un video didattico proprio per spiegarvi come le banche centrali possono impattare a volte in modo quasi telefonate su un cambio, però dicevo a questi livelli non si sa fino a che punto il tasso dollaro yen salirà perché chiaramente dipende soprattutto non tanto dalla banca centrale del Giappone che addirittura ha provato a chiaramente difendere, a rivalutare un po' lo yen vendendo vendendo dollari ma non è riuscita, c'è stata una parentesi poi il movimento è stato subito riassorbito dal mercato, ma a questo punto se la banca centrale del Giappone non andrà ad alzare i tassi e non dirà nulla di nuovo rispetto a quello che sta già adottando dal punto di vista della politica monetaria, questo cambio continuerà a essere eretto dall'andamento dei tassi americani perché andiamo a guardare la correlazione tra questo cambio e i rendimenti statunitensi a 10 anni, linea gialla, guardate che è una correlazione molto molto importante, molto direi perfetta e graficamente molto bella anche quando ci sono queste correlazioni dal punto di vista grafico è anche piacevole guardarle perché c'è un mercato, i mercati sviluppano delle armonie per determinati periodi storici tra classi di investimento diverse ma evidentemente collegate, quindi in questo caso se il tassi americani, questa correlazione ci dice che se la banca centrale del Giappone continua a non far nulla e nel frattempo i tassi americani che sono, ve lo ricordo, sul nuovo massimo di periodo in questo momento andiamo a guardare il decennale al 4,16%, quindi ha rotto quello che sembrava il picco al 4%, c'era chi parlava di doppio massimo perché era andato due volte sul 4%, invece adesso sta andando dritto, non sappiamo se arriverà al 4,5%, comunque sta puntando più in alto perché i mercati hanno la sensazione che la Fed possa essere ancora più aggressiva e quindi questo tasso pivot, questo tasso finale di approdo per combattere l'inflazione possa essere un po' più alto di quello attualmente previsto, guardate i due annali, i biennali sono al 4,6%, tra l'altro i future con scadenza ma aprile, marzo, quindi anche in primavera, sono vicini al 5%, quindi proiettano questo 3,25% che diventerà 4 al 3 novembre, comunque lo proiettano al 5% prima dell'estate, proprio perché appunto ha la sensazione che quello che è finora fatto non stia abbastando per andare a ridurre l'inflazione, poi c'è l'altro grande tema che in realtà ci sono dei soft data che ci dicono, cioè dei dati di sentiment, ci dicono che già sta accadendo qualcosa, l'economia degli Stati Uniti banalmente i mutui a 30 anni sono oltre il 7%, scoraggiano chiaramente il mercato mobiliare, ma questi dati dal punto di vista dell'inflazione che arriva dopo si vedranno dopo, dopo qualche trimestre e quindi questo lag temporale, questo ritardo temporale spingerà probabilmente la Fed ad essere più aggressiva, ma quel che importa al lato investitori è appunto che i tassi non stanno trovando pace e quindi se questo tasso americano dovesse continuare a salire se la banca centrale del Giappone sostanzialmente non dovesse cambiare rotta, almeno nelle dichiarazioni fatemi sapere voi cosa pensate se a quel punto le probabilità che questo cambio dollaro-yen continui a salire, quali sono a vostro giudizio? Io posso constatare che c'è una forte correlazione e che per ora appunto questo cambio in assenza di appunto un pieno decoupling delle banche centrali coinvolte sta andando verso l'alto ed è correlato ai tassi americani, quindi più questi tassi salgano o si interrompe questa correlazione e ad interromperla è la banca centrale, oppure fatemi sapere cosa ne pensate, ma quello che volevo dirvi al di là di fotografare quello che è stato probabilmente per chi lo ha fatto un trade decisamente telefonato per lo meno da qui, cioè da quando si è capito questo decoupling tra le due banche centrali e allo stesso tempo che è molto importante osservare le banche centrali cosa fanno, cosa non fanno, cosa hanno intenzione di fare, se c'è una banca più ostinata dell'altra in certe strategie, in certi comportamenti, mentre l'altra invece va in una direzione totalmente opposta, è molto probabile che il mercato dei cambi rifletta questo movimento e quindi lato investitori se ne può prendere atto, chiaramente con il proprio portafoglio, il proprio rischio rendimento, le proprie strategie, non sono consigli di investimento ma questa delle banche centrali è una strategia che utilizzano gli investitori professionisti, quindi quella di andare a controllare cosa stanno facendo, cosa faranno le banche centrali e quindi quando si creano degli strappi molto importanti tra due banche essendo il cambio, le valute, un discorso di coppia, il dollaro può essere forte in questo momento nei confronti dello yen ma può essere anche debole nei confronti di un'altra valuta, quindi è sempre un discorso di coppie quando si parla di valute e quindi è sempre se vogliamo uno spread trading naturale tra due economie, tra due aree e quindi quando queste aree hanno delle banche centrali che fanno l'opposto e danno l'idea che lo faranno ancora per parecchio tempo fino a prova contraria e in assenza di altre clamorose notizie, chiaramente l'atteggiamento delle politiche di banche centrali e questa divergenza molto probabilmente impatta sul cambio e quindi questa è un'operatività che alcuni esperti valutano e quindi io vado a didatticamente, scolasticamente a indicarvela per studiarla, per valutarla, per consigliarvi di appunto tener conto anche di questo, anche nell'ambito intermarket, nel senso se dovessimo avere un pivot, se si scopre che la Fed fra un po' si ferma, è quasi matematico che questo cambio dollaro yen abbia finito la benzina per correre, ripeto fino a prova contraria, quindi ci sono proprio le correlazioni, anche intermarket in questo caso tra mercato obbligazionario americano e mercato delle valute in cui va a scontrarsi, andare in spread trading il dollaro nei confronti dello yen, bene per oggi è tutto, volevo darvi questo spunto di riflessione, fatemi sapere cosa ne pensate e vi invito alla prossima, ovviamente vi rimando nuovamente ai miei articoli sul Sole24ore in cui approfondirò nelle prossime giornate molto molto anche il tema del tasso PV degli Stati Uniti che è un tasso molto molto importante da cercare anche perché c'è il tema dei rischi sistemici che ci sono all'orizzonte in un contesto in cui questi tassi continuino a salire, il caso della Gran Bretagna che ha dovuto fare marcia indietro e fare quantitative easing sulla parte lunga del debito per salvare i fondi pensioni, non è detto che sia l'unico caso a cui assisteremo a questo giro della storia di difficoltà da parte appunto del sistema finanziario sia un fondo pensione, siano fondi obbligazionari eccetera eccetera in un movimento in cui le banche centrali, in particolare la Fed sta dettando fortemente la linea al rialzo, la ricerca osse dire quasi disperata o comunque molto molto aggressiva e molto incerta di questo tasso PV che possa poi dare una mazzata all'inflazione senza che poi si verifichi quello che si è verificato negli anni 70 quando sostanzialmente al timone della Fed c'era un certo Volker. Alla prossima!